Qual è il singolo segreto che ti permette di raddoppiare le vendite senza procacciare clienti nel 2022? Ne parliamo in questo video dall'hotel più esclusivo al mondo, il Burj Al Arab, di Dubai. Ok, se sei ancora qui, allora vuoi scoprirlo, questo segreto di cui nessuno sta parlando per raddoppiare le vendite nel 2022. Ok, parliamone, ma prima di parlarne ti devo dire in totale trasparenza cosa ci faccio nell'hotel più caro al mondo e soprattutto cosa faccio qui in una sedia parlandoti di questo argomento. Beh, la risposta è molto semplice. Alle ore 3.15 oggi ho un appuntamento nella spa che si trova al diciottesimo piano lassù, proprio lassù. E quindi ho detto, sai cosa? Parliamo di un argomento che secondo me è chiave per aiutarti a migliorare la capacità di vendere i tuoi prodotti e servizi. Mentre aspetto, quindi in totale trasparenza ti dico questo e scoprirai il perché uso la parola totale trasparenza alla fine del video. Infatti la strategia che ti consiglierò e che ti condividerò ha a che fare con questo termine, la trasparenza. Ma facciamo un passo indietro, se non mi conosci sono Fabio Gallerani, fondatore di Marketing Genius, imprenditore, seriale e soprattutto diciamo pioniere nel mondo vendita in Italia. Infatti nel 2021 ho avuto l'onore di portare l'abilità maestra del closing che ha detta di molti è l'abilità più utile ed efficace nel mondo digitale per chiudere vendite. Ho detto una frase specifica all'inizio di questo video che ti deve far pensare. Quindi facciamo un passo indietro. Allora abbiamo parlato del concetto che nel 2022 esiste un modo per evitare di perdere tempo giustificando il tuo prodotto e servizio e cercando di inviare informazioni ai tuoi clienti. Perché? Perché devi sapere che in realtà non nel 2022, non nel 2021 ma all'inizio dei fatti che ci hanno totalmente chiusi in casa, le persone hanno iniziato a navigare di più su internet, le persone hanno iniziato ad utilizzare di più il loro telefono e hanno iniziato a utilizzare Google, Facebook e altri mezzi comunicativi per fare un'attività specifica che è quella di informarsi su ciò di cui hanno bisogno. Rimani con me su questo concetto perché se le persone si informano su ciò di cui hanno bisogno, significa che a differenza di pochi anni fa, in cui le persone magari sull'online non erano proprio così flessibili e non erano così attive, oggigiorno le persone semplicemente prima di effettuare un acquisto sono più informate. Cioè, le persone quando arrivano da te e vogliono, fra virgolette, chiederti più informazioni, quello si tratta in realtà solo di un meccanismo difensivo. Cioè, le persone hanno già tutte le informazioni di cui necessitano, ok? E questo è un grande cambiamento perché una volta il venditore o la persona che era addetta al chiudere una vendita, semplicemente era la fonte di informazioni principali per il cliente, quindi questo si fidava di lui ciecamente. Ora, cosa succede se il tuo cliente ha più informazioni di prima e soprattutto è più allenato a cercare informazioni prima di pagare qualcosa? Beh, la risposta è che dubita. Dubita inizialmente, subito, del venditore. Il venditore non è più visto come una fonte autorevole di informazioni, ma è visto come una fonte di potenziali messaggi fuorvianti. Ed è per questo che, secondo una recente ricerca, hanno scoperto che la percentuale, diciamo il numero di stelle che ti permettono di fare un acquisto sicuro e deciso, senza ripensarci, non sono 5 stelle, ma sono 4.2 e 4.5 stelle. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il cliente, quando cerca qualcosa, va subito ad informarsi sugli aspetti negativi. Perché non si fida di quello che gli dici tu come azienda, come consulente, come avvocato. Va subito a vedere la verità dei fatti. Perché, paradossalmente, il marketing che punta solamente a parlare dei benefici, oggi, nel 2022, non funziona più. E ti sembrerà assurdo, ma questo è un trend che non si invertirà. Quindi, riassumendo, le persone oggi sono più informate perché, a causa degli ultimi fatti, ma in realtà anche prima, utilizzano di più il telefono, utilizzano di più, diciamo, tutti i device tecnologici per prendere le informazioni. Quindi, se sono più informate, vuol dire che, quando entrano in contatto con te, si aspettano solo una cosa da te. E sai qual è quella cosa? Esattamente quello che ti ho detto all'inizio di questo video. La trasparenza. Non sono qui, al Burj Al Arab, per farmi una notte a 2.000 euro, no? Perché magari, vedendo questo video all'inizio, vedendomi in un ambiente così, avrei pensato, eccolo qua, Gallerani. Vuol far vedere che hai i soldi e che è nell'hotel più caro al mondo. E saremo partiti con una premessa sbagliata. Perché? Perché non sarei stato trasparente. La chiave per vendere più prodotti o servizi nel 2022 è essere trasparenti. Essere estremamente sincero con quello che vendi, con i punti negativi e soprattutto perché non dovrei comprare quel prodotto o servizio. E questo lo puoi fare solamente se diventi un closer. Infatti, l'abilità del closing, ed è per questo che è totalmente diversa dall'abilità delle vendite. Nel closing non si parla mai del prodotto, si parla della persona e del problema. E si cerca di capire realmente perché è lì, perché vuole il tuo prodotto o servizio. E in maniera trasparente il closer va a illustrare il perché non dovresti comprare. Quindi la morale di questo video, breve ma estremamente innovativo, è che quando il cliente entra in contatto con te, tu devi dare per scontato che lui sa già quello che sta facendo. Sa già i tuoi punti deboli. Ha già fatto una ricerca online. Ha già visto cosa dicono gli altri di te. Ed è per questo che in maniera trasparente, così come io ti ho detto che non sono qui per spendere 2000 euro a notte, tu devi dire la verità. E dire la verità include condividere i tuoi punti deboli. Condividere il perché non dovrebbe pagare il tuo prodotto o servizio. Bene, se ti è piaciuto questo video, allora significa che il closing potrebbe fare per te. Per questa ragione ho lasciato qui sotto un link per darti accesso ad alcuni video come questo che vanno a parlare più nei dettagli di quello che fa un closer, di come utilizzare questo nella tua attività da oggi stesso, riuscendo ad iniziare ad avere risultati. Perché in maniera trasparente ti posso dire che i risultati arriveranno solamente se prendi sul serio questa abilità. Io sono Fabio Gallerani, se ti è piaciuto questo video clicca il link qui sotto e accedi ad alcuni contenuti che non sono facili da trovare ma che ti permettono di avere più informazioni ma soprattutto più consapevolezza di cosa significhi imparare il closing per la tua attività. Per riuscire a fare risultati, riuscire a servire i tuoi clienti, ma soprattutto riuscire a lavorare con estrema onestà e trasparenza e allo stesso tempo raddoppiare i tuoi fatturati. Ti mando un abbraccio, a presto, ciao! Autore dei sottotitoli a cura di QTSS